BEEEH BOOOOOH RINGRAZIAMO A JESUS ETERNO E SANTO UOMO COME NOI PERO DIO NOSTRO CREATORE DI TUTTE LE COSI MA C'CIENT LA CAPOCHA BRECCION DEL TÈBRE VE CHI SEI? VE CHI SEI? VE CHI No, 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 no! Tu seielin' merda! Sì! Sì! Io te lo so E non mi l'hai Sì! Schi fissati! Corpi da scopaggio Non ci formi 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 Oh infezion Non lo so! Chezzo! 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 Mi piace scuola, io e... Eh, trye per avere влиzato il video! È un certo modo! Quattro! È un savio! Adesso! Adesso! Mori dalla mia dieta! Maxi scampi! Il vecchio casino, dive! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti